molto care e in tutti questi anni hanno fatto veramente tanto per il nostro gruppo, fino all'ultimo. Quindi vi chiedo veramente con il cuore un grosso applauso per Ottorino Drigo che per anni ha seguito la parte centrale musicale del nostro gruppo, per Luigi Corazza, il nostro sarto che senza di noi veramente noi per qualcuno non saremmo mai stati in grado di farli e per ultima ma non per ultima la nostra cara nonno Riva che veramente lei da dietro le più liberi a casa ha fatto sempre il mondo per tutti noi, veramente. A suo ricordo quest'anno abbiamo tirato fuori i cavalini. Il momento migliore, mi parte il microfono, che ha fatto esattamente dieci anni fa. Ok, quindi ecco, la nostra forza sono le persone del paese e anche noi, perché noi abbiamo parecchie persone che partecipano al nostro gruppo e non sono di Chios, ma la forza è proprio l'amicizia, il voler stare insieme ed essere uniti anche solo per divertirci. Quindi adesso un altro bell'applauso e passiamo con la stiata. Grazie a tutti per essersi.